Ciao amici e ciao amiche, oggi video improvvisato perché è sabato, io stamattina ho registrato un video, quindi ho il make up diciamo fatto, completato, ma poi sono andata a farmi un riposino pomeridiano e quindi sono andata a letto e tutto il giorno che ce l'ho addosso, non avevo messo spray fissante, insomma è andato via un po' a chiazze, la situazione non è delle migliori, siccome fra poco usciamo per mangiare una pizza, ne ho approfittato per registrare un video e farvi vedere come, con quali semplici e pochi passaggi, io praticamente faccio un upgrade del make up, da un make up già un po' semi distrutto a un make up nuovo, fresco e completo, insomma è d'effetto per una serata fuori. Così, mi è venuta questa idea e quindi la volevo realizzare insieme a voi, intanto potete vedere che la base ovviamente è lucida in alcuni punti, qua è completamente andato via tutto perché ho dormito, mi sono coricata da questa parte, invece qua c'è ancora un po' di base, insomma è tutto un po' disastrato. Quindi che cosa vado a fare? Per prima cosa vado sempre a rimettere, anzi faccio una premessa, io per prima cosa vado a struccare con un dischetto di cotone il correttore, mi sciacquo solo questa parte con l'acqua, la tampono e vado ad applicare un po' di contornocchi. Questa è l'unica cosa che faccio, diciamo il contornocchi è l'unica parte che strucco perché andare a mettere correttore sul correttore mi appesantisce troppo la zona e quindi non mi piace. Quindi vado a mettere appunto un altro po' di correttore qua nella zona occhiaie e lo vado a sfumare con il pennello di Zoeva, così avremo di nuovo un contornocchi bello fresco, mi ho messo anche troppo perché non avevo preso lo specchio, va bene. Un contornocchi molto fresco e perfezionato che già questo è praticamente metà del lavoro, vi assicuro che togliendo via le occhiaie e rinfrescando il contornocchi già tutto ha un senso. Allora, perfetto, vado a prendere la spugnetta asciutta e tampono l'eccesso e a questo punto dobbiamo rinfrescare proprio il fondotinta. In questo caso vado a prendere un fondotinta in polvere, questo è di Maybelline, il Super Stay 24 ore nella colorazione 30, lo vado a prendere con un pennello da cipria, non troppo fluffy ma non troppo denso perché non voglio una coprenza perfetta. Ecco, devo solo andare a rinfrescare un po' il tutto. Quindi questo che fa? Mi va di nuovo a fare una base perfezionata e a spegnere la lucidità e fondotinta e cipria tutto in uno. E mi trovo benissimo a fare questa cosa perché rimettere di nuovo il fondotinta sopra i rimasugli, diciamo, i residui di un make-up già fatto della giornata non mi sembra il caso. Con questo vado a fare un ritocco, secondo me, più che efficace. Esatto, la base praticamente ritorna perfetta, levigata, coperta il giusto, non ha un effetto pesante, non ho più la lucidità. Et voilà! E poi proseguo tranquillamente con il bronzer e utilizzo questo di Iconic London che sto usando al momento. Un po' di bronzer qua e là! Allora, stiamo andando a mangiare la pizza, noi non ci andiamo spesso perché la prossima settimana ho l'appuntamento dalla nutrizionista. Vi racconto un po' di fatti miei, bene sì. Quindi finalmente mi sono decisa a prendere l'appuntamento da una nutrizionista che mi ha consigliato alla mia amica Giovanna. E mi ha detto che lei si trova molto bene perché per me è fondamentale trovare una persona con cui sei in sintonia. Ne ho provate alcune che proprio non mi sono piaciute. Quindi devo essere motivata e trovare la persona giusta. Quello è fondamentale, come in tutto, come con lo psicologo. Perché nella nutrizione c'è tanto di testa, tanta psicologia. Devi trovare la persona giusta che ti dia dei consigli alimentari, che ti dia un regime alimentare che si adatta al tuo stile di vita. Non sei tu che ti devi adattare al regime alimentare, ma viceversa. Altrimenti non se ne viene fuori. Vado a riapplicare un po' di gel per le sopracciglia. Anche se le sopracciglia, devo dire che si sono mantenute abbastanza bene. Solo da questa parte si sono un po' abbassate perché ci ho dormito su. Dormito, insomma. Ho fatto una pennica di 20 minuti. Però, ragazze, non vi nascondo che dopo la settimana che ho avuto, il sabato, la domenica, se riesco, faccio sempre una pennica dopo un'intensa settimana di lavoro. E ok, le sopracciglia ok, la base è ok. Anche la terra è andata su bene. Questa terra ha un effetto molto naturale. È perfettamente neutra. Nonostante sia la colorazione medium bronze, la vedo piuttosto chiara. Quindi, ad esempio, in estate non potrei utilizzarla. Poi, che cosa vado a fare? Siccome è sera e quindi voglio un po' esagerare, non mi spaventa la luce sul viso, vado a prendere un po' di questo blush luminoso della palette di Wycon e lo metto sulle guance. Bellissimo. Super bellissimo. Polvere gelè. Zero texture. È già bello luminoso così, ma io voglio esagerare perché appunto non si esce tutti i giorni alla mia età e con la mia vita. E quindi voglio esagerare perché adesso andrò a mettere un altro illuminante ed è uno dei più power che ho in collezione. È un illuminante che mi si era frantumato durante un viaggio, però ancora non riesco ad utilizzarlo. Se faccio attenzione, vedete, si è proprio completamente rotto, però se lo vado a pregavare con attenzione riesco ad utilizzarlo. Questo è molto potente, è di una vecchia collezione di Wycon. Non so se guardate qua, mamma mia. Che potenza! Forse anche troppo. Poi non essendo più pressato, insomma, come prima, vi lascio ancora più polvere, però è bello, vedete, è molto bello, è un illuminante cotto di quelli belli power. Ci vado su col pennello del blush per avalgamare il tutto e voilà! Adesso arriviamo agli occhi. Comunque, come ti stavo dicendo, volevo finire il discorso, siccome la prossima settimana ho appuntamento con la nutrizionista e quindi finalmente inizierò un regime alimentare controllato per perdere peso e quindi l'ultimo weekend di libertà volevo... no, non è l'ultimo weekend di libertà, scherzavo, perché io vado dalla nutrizionista il giovedì e inizierò la dieta dal lunedì successivo. Però non prevedo la prossima settimana, perché ho degli altri impegni e non prevedo di riuscire ad andare fuori a cena, quindi è l'ultima, diciamo, serata in cui mi posso andare alla pazza gioia. Infatti, ieri sera ho mangiato hot dog e stasera pizza. Penso che almeno l'hot dog lo saluterò per un bel po' di tempo, però sono contenta di iniziare perché ne ho veramente bisogno in questo momento. Ho preso troppo peso, voglio arrestare questo andazzo, voglio tornare anzi un po' indietro a perdere qualche chilo, devo perdere 10 chili e spero davvero di farcela, ma anche per una questione proprio di salute, perché mi sento comunque un po' appesantita, non sto mangiando, è da due anni che mangio male. Insomma, voglio, devo riprendere un attimo, rimettermi in carreggiata e riprendere il controllo, anche mentale, di quello che mangio e voglio migliorare drasticamente la qualità di quello che mangio, perché noi siamo quello che mangiamo. E per la prevenzione di tante, tante malattie croniche è inutile che ci giriamo intorno, ma l'alimentazione è tutto, ragazze, è il 90%. Allora, sugli occhi, ragazze, visto che un pochettino la struttura del make-up ha resistito, voglio solo andare a intensificare un po' l'ombretto centrale sulla palpebra mobile e volevo utilizzare uno dei Turbo Magic Pigment di Constance Carroll, che non uso da un sacco di tempo, ne ho diversi, ma li uso veramente poco, e quindi quale migliore occasione, visto che per ora mi sto lanciando sui ombretti singoli, di andare a rispolverare. Siccome il trucco l'avevo fatto sul violaceo, voglio rispolverare questo, che è il numero 03, numero 03 che è appunto un violaceo, un rosa violaceo. Vi faccio vedere lo swatch, sembra molto bello, molto, 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 molto bello, e andiamolo ad applicare sulla mobile. Nel frattempo vi dico che stamattina, bello eh, stamattina io ho fatto il trucco con una palette di Sigma, il video credo lo abbiate visto o qualche giorno fa o la settimana scorsa, e ho utilizzato come primer il matitone di Sigma, l' Eyeshadow Base Primer. Ragazze, sono andata a letto e passa tutto il giorno così e gli ombretti ancora resistono, non sono più brillanti come stamattina, ma resistono. Ora, non so se è merito degli ombretti o se è merito di quel primer, ma promette molto, molto bene, lo testerò e vi farò sapere. Forse è merito degli ombretti che sono, come vi dicevo nel video in cui ho registrato il look, un po' secchini e quindi si adattano bene alla mia palpebra, sulla quale gli ombretti cremosi non resistono, invece quelli secchi resistono bene. Allora, come vedete io non ho fatto altro che andare a ravvivare il colore sulla palpebra con un ombretto one and done e mi piace moltissimo. Adesso vado con un pennello da sfumatura nel bronzer per fare un po' la transizione, riprendere un po' la transizione. Ci ho pensato adesso di fare questa roba qua, ma si poteva anche non fare. E riprendo un attimo la transizione, non faccio nient'altro, sapete perché non mi va di fare nient'altro se non di prendere l'illuminante e andare a fare un punto luce all'interno dell'occhio. Ok. In questo modo. Vedete? L'illuminante è bello potente. Residuo me lo passo qui. Anzi, me ne vado a prendere un altro po' e me lo passo qui. Quindi, insomma, ragazze, vedremo come andrà questa avventura. Io vi tengo aggiornate perché, insomma, così sono più stimolata. Visto che comunque vi devo, vi aggiornerò sui miei progressi o mancati progressi, mi sento più stimolata a fare bene perché non posso fare brutte figure con voi. E' tosta. Io penso che fare una dieta e seguirla bene sia una delle cose più difficili in assoluto da fare, davvero. Perché mangiare è uno dei piaceri della vita e quindi si avverte all'inizio una privazione nel non poter mangiare bene. Bene, diciamoci la vita è inutile e ci raccontiamo venate. Fare la dieta significa anche che mangiare scondito perché ci devi... Hai un cucchiaino d'olio a pasto e quindi se lo metti nel pollo ai ferri non lo puoi mettere nell'insalata. E quindi mangi tutto scondito e questa è una cosa tristissima. Poi il petto di pollo ai ferri, per carità, la tristezza. La tristezza, la tristezza proprio massima. E quindi cercare di mangiare bene, con gusto, però con pochi grassi, poco sale, non è facile. E' inutile che ci diciamo le solite fesserie che si può mangiare bene anche facendo la dieta perché non è la stessa cosa. Perché non puoi mangiare frittura e fritta è buona pur una sola di scarta. E devi limitare il sale e soprattutto devi limitare i grassi. E sono i grassi che danno sapore al cibo. Diciamo la verità, perché finché non diciamo la verità non siamo corretti. Fare la dieta è un grande sacrificio, però è un sacrificio che dà tante soddisfazioni. Perché è difficile all'inizio, almeno nella mia personale esperienza, posso dire che la fase difficilissima sono le prime due settimane. Proprio la prima settimana è terrificante perché hai proprio il buco nello stomaco, hai una fame e ti mangieresti il frigorifero con tutto quello che c'è dentro. Perché lo stomaco si deve restringere. Passando la prima settimana, la seconda è già un po' meglio, però dopo quando cominci a vedere i risultati, cominci a vedere che ti sgonfi, che stai meglio, che hai più energia, che dormi meglio, che il tuo corpo reagisce meglio e cominci a perdere peso. E quindi a metterti magari quel pantalone che ti stava stretto stretto, ti vedi più bella, più sgonfia. Insomma, ha mille benefici che poi ti invogliano a continuare e a non mollare. E allora lì da un sacrificio enorme diventa, non dico un piacere, però sei talmente motivata che vedere comunque che la bilancia ti restituisce il beneficio di tanti sacrifici ti fa stare proprio bene. E d'altra parte, se riesci, hai più autostima, dici, guarda, ce la sto facendo. Quindi si innesca un circolo virtuoso per cui ti senti sempre meglio con te stessa, ti senti sempre più soddisfatto di te, del tuo corpo, anche della tua forza di volontà, perché ci vuole una grande forza di volontà, eccetera, eccetera. Insomma, tutte cose che chi nella vita ha un po' combattuto col peso conosce benissimo. Ma mi perdo in chiacchiere come al solito, adesso vado a mettere un po' di Cupitz Harrow di Nabla numero 3, che è la matita più violacea. Questa è la numero 3? Sì. Quella più violacea nella parte inferiore dell'occhio e all'interno. Io non lo uso mai questo Cupitz Harrow perché non mi trucco mai di viola e di rosa, però devo dire che è bello. È bello, con questo trucco ci sta veramente, veramente, veramente bene. Io a questo punto vado un po' a rinfrescare il mascara e di solito quando faccio quest'operazione utilizzo, se lo trovo, utilizzo questo, il Maximood Mascara di Kiko. È proprio perfetto per fare quest'operazione perché ha uno scoporino molto piccolo che mi permette di andare a spingere dalla radice le ciglia, che già sono ovviamente appiccicate dal mascara che ho applicato stamattina, le va a spingere e va un po' a rinfrescare il mascara. Ecco, per questa funzione sarebbe perfetto lo shampoo per ciglia di MAC. È un prodotto che praticamente si applica sopra il mascara, è un top coat che va a rinfrescare e a potenziare il mascara. Ecco, quello mi alletta perché a me spesso capita di dover rinfrescare il mascara. Se qualcuno di voi ce l'ha e l'ha provato, mi sappia dire se funziona, se è un prodotto che funziona oppure è una sola. Allora, vediamo un po'. Vedete come il mascara davvero riprende forza? È veramente molto molto bello e io ovviamente mi sono sporcata, ma non importa, poi ci andremo a pulire. E ragazze, per questa operazione io trovo che questo mascara sia perfetto. Guardate come è andato davvero a... Sembra appena applicato il mascara, eh. Allora, sono soddisfatta così, guardate che bello, che carino il risultato. Poi, come rossetto, non ho preparato niente, però direi o di mettere un gloss così quando mangio la via subito e buonanotte, oppure una tinta che magari resiste un po' di più. Ci penso su e dopo torno. Voglio fare un'operazione un po' strana, andare a contornare le labbra con la matita 3.5 di Nabla, che è un malva, scuro, freddo. E poi dentro ci voglio mettere questo, questa tinta di Maybelline, nella colorazione 65 Seductress, che è un rosa chiaro, quindi voglio vedere come sta questo contrasto. E voilà! Vedete com'è scura e fredda la matita di Nabla? E andiamo con la tinta di Maybelline. Ma come sarà? Che questa è piuttosto chiara, non è? Colorazione. A parte il fatto che mi sono sporcata un dente, non male. Ora appena si asciuga diventa un pelo più scura. Non male, ragazze, queste tinte resistono meglio di qualsiasi altro rossetto liquido. Non male, non male, non male. Poi appena si asciuga ci andiamo a mettere anche un pelo pelo di gloss. Adesso invece vado ad applicare un po' di questo setting spray di Iconic London, che si secchera e diventa luminoso. Lo uso raramente perché di giorno non mi piace l'effetto brillantini, anche se sono piccoli si vedono, ma di sera... ci sta. Profuma di fiori. Poi ne ho messo in abbondanza perché abbiamo fatto la base con il fondotinta e il polvere, quindi ci voleva un po' di setting mist, che va a dare ancora più glow e fa sfondere benissimo tutto quello che abbiamo applicato sul viso. E voilà, ragazzi, allora io vado a mettere solo il pelo di questo gloss di Pat McGrath nella colorazione Secret Lover, che è un malva bellissimo, ma solo appena appena al centro delle labbra, così. giusto per dare un pelo di tridimensionalità, non mi interessa applicare troppo gloss, altrimenti rischia di andare a togliere anche la tinta labbra che abbiamo messo sotto. Sapete che questo look mi piace molto? Ve lo faccio vedere da vicino. Che ne pensate? Ragazze, questo è il mio upgrade di un look sfasciato a un look glam e sofisticato da sera. Fatemi sapere cosa ne pensate, scatenate l'inferno nei commenti. Un grande bacio, alla prossima. Ciao! Ciao! ! Ciao! ! Ciao! ! Ciao! ! ! ! ! ! ! Grazie.